e qui diciamo la mia scaletta termina qui dopo un video piuttosto lungo dove spero di aver dato un sacco di spunti utili a tutti coloro che appunto hanno in mente di fare questo salto concludo con un breve ragionamento sul calore chiunque abbia avuto una Tiger sa che il punto debole delle vecchie generazioni era senza dubbio la temperatura, le temperature rasmesse alle gambe, alle cosce dell'ottocento che erano veramente insostenibili mi sento di dire con la 1200 avevo fatto un video dedicato vi lascio il link in descrizione devo dire che a parità di abbigliamento perché ho avuto modo di usarle tutte e tre con lo stesso completo e di sensazioni mie, sensazioni della Martina e anche di utilizzo perché il viaggio in Abruzzo l'avevo fatto con percorsi simili anche con l'800 l'anno scorso abbiamo fatto lunghe autostrade con 1200 con alte temperature sopra i 30 gradi quest'anno abbiamo oscillato tra i 25 e i 35 quello che posso concludere diciamo senza dubbio per me è che l'800 rimane la peggiore dal punto di vista delle temperature percepite la 1200 era non male in realtà probabilmente per il fatto che il motore era più grande e sporgeva di più non lo so sta di fatto che superati i 30 gradi tra l'800 e la 1200 senza dubbio l'800 rimaneva peggiore la 900 è diversa è diversa perché sono stati spostati i radiatori che adesso appunto sono nei fianchetti laterali quindi lo sfogo dell'aria va a finire sulle ginocchia quindi sicuramente scalda ancora molto questo l'ho percepito superati i 25-28 gradi la moto scalda la cosa positiva però per come sto seduto in sella io io sono alto 1,87 più o meno quindi per darvi anche un riferimento è che adesso la moto scarica nella zona delle ginocchia quindi nella zona molto più avanzata e più laterale rispetto a 800 e 1200 che invece scaricavano molto nella zona dell'interno coscia e appunto dell'interno ginocchio che era molto più fastidioso quindi in realtà al netto di un aumento di temperatura sulla punta delle ginocchia per come appunto mi cade la seduta devo dire che la situazione è molto migliore sia nell'800 che nel 1200 anche lato passeggero mi diceva Martina che il calore arriva forse lato passeggero il 1200 era un po' meglio però nel complesso la 900 vince sia sull'800 sia sulla 1200 quindi questo è quanto questo video finalmente ho trovato il tempo di farlo vi farò un video dedicato al discorso delle sensazioni dei pneumatici delle A41, AT41 che ci sono di serie per il momento a posto così vi lascio in descrizione appunto il link al corso e ai precedenti video che riguardavano il confronto 800 e 1200 vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete iscrivervi al canale e mettere mi piace per tutto il resto ci vediamo al prossimo video